di nuovo dei problemi tecnici e il creeper ragazzi miei è riuscito a distruggere l'intera sua cella quindi ora la dovrò ricostruire velocissimo rimettiamo le torce quindi abbiamo ragazzi miei non so se si è visto nella seconda parte ma il creeper ha riuscito a distruggere l'intera cella quindi ha fatto esplodere tutto vabbè non ci pensiamo ora abbiamo fatto il creeper proviamo lo stray e il witter scheletro direi di sponarli tutti e due loro due come il co il witter scheletro è più alto quindi un attimino dovrò aprire ok allora questi avranno lo stesso comportamento dello scheletro ma adesso direi di prenderli tutti e quanti i mutanti quanti sono i mob della mutant creatures mod quindi tutti quanti e di metterli nella loro gabbia quindi abbiamo il creeper l'annegato il pigman lo scheletro lo scheletro devo metterlo dall'alto lo zombie e l'ask ecco fatto e l'ask è finito adulto perchè non ho messo un lupo perchè ora perchè sono sponati dei cuccioli perchè ora io ragazzi creo un esercito di lupi e proveremo a combattere e loro dovranno combattere contro tutti i mob bene ragazzi con il nostro esercito di lupi potremmo attaccare e sconfiggere la mod di ora nel cavalco 1 e andiamo lupi attaccare l'ask combattere io scappo no io devo attaccare ammazziamo l'ask gigante il mostro gigante lo stiamo assacrando di botte sono fortissimi questi cosi i lupi maledetto è arrivato allo stadio rosso quindi si può rigenerare la vita se provano a ucciderne solo se l'ask prova a uccidere uno dei lupi allora saranno cavoli in mani per lui la sua morte è giunta per scusi quindi abbiamo vinto scusa se io mi butto le carni se le mangiano ok quindi abbiamo scoperto che mangiano le carni mangiate tutta la carne così vi farà bene e potrete diventare forti bene abbiamo sconfitto anche la ora vorrei provare uno scheletro e un creeper mi sono ho buttato l'uovo del creeper mutante prendiamolo veloce che stai facendo? ho un v*****o finito? e va bene allora qui di qui abbiamo ragazzi via il mutant scheletro andiamoli un colpo attaccare lupi lupi datevi un cavalcare scappo scappo ah no io sono una persona orribile che scappa ma in realtà non lo è perché sono costretta ad attaccarli forza all'attacco forza dell'ordine attaccare dobbiamo distruggerlo definitivamente il suo regno il regno degli scheletri ma io lo sto cavalcando come corre? che bello ciao lupi allora adesso è il punto del creeper attaccano pure il creeper datevene uno datevene uno un lupo hanno ucciso uno mio all'attacco creeper morirai il tuo inferno finisce scappa avviciniamoci lupo gli ha uccisi tutti però in compenso siamo riusciti a sconfiggere quindi quel buco che vi siete chiesti da dove provenisse è in realtà il risultato di un creeper esploso quindi niente vabbè abbiamo risolto comunque io direi che per questo video è tutto da me e da tutti i mob della Mutant Kratos che li spono uno a uno perché sono troppo belli e fighi e fantastici forti super forti mi dispiace solamente per i lupi che sono tutti stati abbazzati e massacrati di bot da quei maledetti di un coso vabbè si puoi chiudere e qui ragazzi abbiamo il Mutant Zombie il Mutant Hossk e il nostro lupo che va all'attacco contro gli eserciti perché è forte e io direi che per questo video è tutto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale vabbè vabbè ciao da me da tutti i mob della Mutant Kratos e vabbè è tutto che si stanno combattendo i lupi perché mi muovo da solo e ciao ciao